Caro albergatore, oggi voglio parlare dell'esperienza dei tuoi utenti sul tuo sito web. Oggi parliamo del user experience. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di user experience. Ma prima di iniziare, iscriviti al mio canale e attiva le notifiche così da non perdere tutti i miei contenuti. E poi, se vuoi saperne di più sul metodo social media hotel, il metodo dal quale io sono la founder, trovi in descrizione il link di Amazon che ti rimanda direttamente al mio libro. Ma parliamo dunque di questa user experience e di che cosa stiamo parlando, ovvero di come i tuoi utenti navigano all'interno del tuo sito web e quindi di quella che è la loro esperienza. E perché te ne voglio parlare? Beh, mi è successo proprio recentemente, ero fuori città con mio marito, dovevamo andare a cena in un ristorante di un hotel, dopo avevamo anche un concerto, a quel punto tutto il mio marito. Ma sai che c'è? Pensiamoci un attimino, vediamo se alloggiamo direttamente lì e quindi torniamo a casa domani mattina. Quindi ero lì con la mia carta di credito, il mio cellulare, vado sul sito web di questo hotel dove si teneva alla fine il concerto. Bene, ragazzi, una cosa terribile. La navigazione da cellulare è stata pessima. Poi non ci ho nemmeno provato da desktop. Però voi capite bene che io ero lì, ero lì con i miei soldi, volevo dare i miei soldi a te, albergatore, e tu non me l'hai reso possibile. I siti web non devono essere complicati, soprattutto da mobile, dove abbiamo la mappa incertuale più alta di navigazione da parte degli utenti. Quindi che cosa succede? Che io provo sul tuo sito web, cellulare, non cellulare, desktop, tablet, e io devo navigare facilmente. Cosa significa? Che devo trovare subito le informazioni dalla quale io ho bisogno. Non mi devo andare a cercare il menu. Ragazzi, non si poteva tornare indietro su questo sito web. Tu dici, ok, ma stai da cellulare, hai la freccetta. No, ragazzi, non tornava più indietro. A un certo punto questo sito si è proprio completamente bloccato. Ho pensato, dai, sarò io, avrò una linea schifosissima, non sta prendendo, eccetera. Poi vi assicuro che alla fine è il sito che non andava. E quindi, come vi dicevo, la user experience, ci sono tanti aspetti dai quali dobbiamo tenere in considerazione per far sì che il nostro sito web venda. Perché magari abbiamo un sito web fantastico, bellissimo, la grafica era proprio come l'avevi sempre immaginata, ma non converte. Non converte perché le persone non sono in grado di trovare un'informazione o comunque di arrivare a prenotare. Quello che io dico sempre ai miei clienti, ma allo stesso tempo lo dicevo ai ragazzi, quando io ero dipendente e quindi formavo il mio personale, andate sul nostro sito web, andate anche su Booking, da altre parti, cercate di capire che difficoltà incontrano i nostri clienti durante una prenotazione. Anche perché così è poi anche più facile assisterli telefonicamente. È una cosa che io faccio anche con i miei clienti nel momento in cui magari prendo semplicemente i servizi di social media marketing e non prendiamo un rifacimento di un sito web. Io comunque mi comporto da cliente e cerco di capire, bene, voglio andare in questo hotel. Come faccio a prenotare? Quali sono le problematiche che risconto? Perché a volte ci sono degli errori banali, davvero così piccoli, che possono fare la differenza. E vi dico invece uno più eclatante, il più eclatante che mi è capitato quando ero dipendente, nel momento in cui il nostro sito diventava in versione inglese, le prenotazioni arrivavano a un altro hotel che praticamente il mio direttore gestiva, che non faceva parte della nostra catena, lo gestiva lui, noi non c'entravamo nulla e le prenotazioni arrivavano totalmente in un altro hotel di un'altra città. Quindi capite bene che noi dobbiamo fare tutti i passaggi. Quello che io consiglio proprio a te, albergatore, nel momento in cui hai rifatto il sito nuovo, addirittura prova a fare una prenotazione. Poi te la cancelli, ma intanto fai perché devi capire ogni passaggio e devi capire se c'è una problematica. Quindi vediamo quelli che sono i diversi aspetti che rendono la user experience memorabile per i nostri utenti. Bene, pensiamo al design. Un design accattivante, il nostro sito web ovviamente deve essere bello, però anche se è bello, comunque le sezioni devono essere facilmente riconoscibili. Una cosa che mi è capitata proprio recentemente che è la barra di prenotazione, quella dove noi andiamo a inserire, le date, andiamo a inserire, quelle che sono le persone tasso prenota, erano messe in basso, dello stesso colore del sito, praticamente, credetemi, sembrava un footer. E in molti casi, tu durante la navigazione te lo perdevi. E questa è una cosa gravissima, soprattutto perché, avendo messo questa barra che seguiva l'utente durante tutta la navigazione, i tasti di call to action, praticamente in giro per il copy, per l'interno delle pagine, non erano stati messi. Peccato però che comunque tu quella barra non la trovavi e quindi non sapevi dove andare a prenotare. Velocità. I siti devono essere veloci. Questo è davvero importantissimo perché le persone, dopo tre secondi di un sito che ancora non si è caricato, vi abbandonano, se ne vanno. Quindi dovete fare molta attenzione, soprattutto poi, negli accordi che voi prendete con quelli che sono le agenzie webmaster. Per esempio, una cosa che noi cerchiamo di non far far mai ai nostri clienti è quello di caricare in autonomia le foto. Perché voi magari avete fatto un sito performante, avete speso magari una barca di soldi per quel sito, magari a volte inutilmente, una barca di soldi e che cosa fate? Poi avete voi l'incommenza di caricare le foto sul vostro sito web. Ma le mettete in un formato che non è moderno, non è adatto per i siti e quindi che cosa fate? Appesantite il vostro stesso sito web che magari è nuovo di zecca e invece di avere un sito veloce voi lo rallentate e danneggiate voi stessi. Inoltre, come vi dicevo prima, gli utenti navigano ormai tutti da cellulare e quindi il vostro sito deve essere mobile friendly. Se il vostro sito non lo è, se vi rendete conto che accedendo da cellulare la navigazione è difficile, state lasciando sul tavolo una marea di soldi. Quindi dovete intervenire oggi. Per molti rifare un sito web è un problema solo il pensiero di fare un sito web è un problema perché dicono che costa un sacco di soldi e quindi non lo facciamo. Però voi capite bene che tutti quei soldi che non state spendendo oggi e credetemi un sito web non costa per forza milioni di euro, migliaia di euro. Voi che cosa fate? Perdete soldi nel corso del tempo. Quindi quello del sito web signori miei è un investimento imprescindibile. Ormai si deve fare. Infine una cosa molto importante come dicevo prima è quella dei contenuti. I contenuti devono essere chiari. Ci sono le sezioni in quella sezione parli di quella determinata cosa. Così le persone sanno dove trovare facilmente tutte le informazioni. Ultimamente mi è capitato un sito web che sto rifacendo per conto di un mio cliente dove facevi proprio fatica a trovare informazioni ma facevamo fatica a loro stessi perché il sito per come era stato costruito nel corso del tempo era stato inutilmente complicato quindi avevamo sezioni sotto sezioni e continuavano così tipo una matriosca che poi nel momento in cui dovevi andare a ricercare un'informazione non riuscivi più a farlo e questo effettivamente era un problema perché le persone nel momento in cui trovano confusione non capiscono non si fanno il problema non è che per forza devono venire da te prima di tutto c'è il booking che è molto più chiaro e semplice è male che vada se ne vanno su booking ma peggio ancora se ne vanno dal tuo competitor nel momento che tu sei riuscito a farli approdare sul tuo sito web non li devi far scappare via quindi con soli questi semplici aspetti non andando troppo nel tecnico io ti ho fatto capire perché il tuo sito web deve avere un user experience eccellente se vuoi sapere di più mi puoi contattare a infochioccio alessiaboccanfuso.com comunque con i recapiti che trovi in descrizione così da richiedere una consulenza oppure un preventivo per quanto riguarda il tuo nuovo sito web io spero che questo video ti sia stato utile adesso vai a vedere il tuo sito web che user experience ha fai fallo fare anche ai tuoi dipendenti e cerca di sentire i loro feedback ma prima di andartene iscriviti al canale e attiva le notifiche io ti aspetto nel prossimo video a presto a presto a presto a presto